Questa notizia dell'archiviazione mi ha, diciamo, profondamente dato speranza proprio perché mi permette così di riprendere in parte in mano la mia vita, da dove si era fermata. Buttato fuori di casa perché omosessuale, questa è la storia di Giacomo, trentenne valdarnese, che era stato addirittura denunciato dalla madre per maltrattamenti. Ora le accuse a suo carico sono state archiviate. Tutto nasce nel 2021 quando Giacomo decide di rivelare la sua omosessualità. In un incontro con la madre e lo zio, loro si sono sempre opposti a questa versione, il ragazzo racconta di essere stato aggredito con un estintore cacciato di casa. Pensavo che mi avrebbero accettato, volevo condividere con loro questo mio orientamento e farli partecipi in qualche modo, però purtroppo la situazione si è molto aggravata, si è capovolta. La madre lo denuncia addirittura per maltrattamenti e lesioni aggravate, ma il caso è stato archiviato. Giacomo è stata una vittoria non solo sotto il profilo processuale ma anche morale perché in questo momento sono decadute definitivamente tutte le accuse che pendevano a carico di Giacomo e ora quindi potrà riprendere in mano la sua vita. Quindi speriamo anche che ci sia una risposta importante anche sull'altro versante per quanto riguarda le vessazioni che lui ha subito dalla madre e dall'ozio. Adesso Giacomo attende che la giustizia faccia il suo corso per quanto da lui formalizzato, ovvero le vessazioni e i maltrattamenti subiti a suo dire perché gay. Ovviamente tutte queste accuse dovranno poi trovare riscontro nel sede processuale, dopodiché poi sarà ovviamente il tribunale, il giudice a decidere se dovranno essere adottate anche dei provvedenti cautelari nei confronti della madre. Il 24 dicembre Giacomo torna a riprendere i suoi effetti personali ma nemmeno in quel momento c'è un'apertura da parte della madre. Siamo riusciti a riprendere i miei beni dopo più di un anno finalmente, però non mi è stato permesso di salire ai piani superiori, quindi di poter dare anche un ultimo addio a quella che era la mia casa materna, dei miei nonni materni con cui ho abitato tanto. Questo mi ha ferito profondamente e in più ho notato le cose immobili della mia camera, tutti disfatti, smontati e pronti per essere gettati via, come se si volesse chiudere in ogni modo un rapporto madre-figlio senza poter avere ripensamenti. Oggi Giacomo ha trovato l'amore e può contare sull'appoggio del padre, non abbandona però la speranza di ricucire i rapporti con la madre. Mi rilaccio anche a quello che ho visto sui telegiornali di Papa Francesco, di non denigrare i propri figli, di trattarli con amore anche se sono omosessuali, e quindi di venire in conto, di essere maggiormente comprensibili nei loro confronti e di vedere di accettare questo aspetto dell'orientamento sessuale come una normalità. Ci speri sempre che questa mamma possa fare un passo indietro? Nel mio profondo io ci spero.